Noni, Maurizio, te da quant'è che lavori in qualità di giornalista? Da che anno? Dal 1987... 6... 36... Ho letto su un manuale di giornalismo all'università che un cane morde un uomo non è una notizia, mentre un uomo morde un cane è una notizia. Conosceva questa regola? Sì, è una delle prime che ti insegnano. Poi si è andata modificando nel corso degli anni, insomma anche questa. Allora, in questi 30 anni di esperienza politica, mi sapresti dire quali di queste affermazioni sono notizie e quali non lo sono? Un cane morde due uomini? No, non è notizia. Un cane morde sei uomini? Sì, comincia ad essere notizia. Un cane morde 100.000 donne sarde, sparse in tutta Italia, sempre lo stesso? Grande notizia, da straordinario, da edizione straordinaria. Un cane col volto umano morde un uomo col volto anch'esso, appunto, umano? No, un cane col volto umano, ma tutti i cani hanno un'espressione, no? Spesso è un'espressione umana, si dice che assomigliano poi anche ai padroni, quindi... Un cane morde un gatto? No. Un cane non morde nessuno ma sta lì, un po' sospetto? Nemmeno questa notizia.